Un nuovo intervento di pulizia e decoro urbano in Darsena è stato organizzato dall'Associazione Darsi, composta proprio da residenti del quartiere. Questa volta ad essere oggetto dell'intervento è stato il campetto da basket Diego Malfatti a fianco del Palasport. I volontari, armati di 10 spugliatori, cesoie e attrezzature fornite da sé a ambiente, hanno ripulito l'area verde a ridosso della pineta che circonda il rettangolo di cemento frequentato da tanti appassionati della palla specchi di tutta l'età ma che a causa dello stato di degrado spesso si trasforma in piazza di spaccio soprattutto nelle ore serali. L'intervento dell'Associazione è stato quindi pensato proprio per rendere fruibile il più possibile questo spazio a sportivi e famiglie. Questa è un'altra zona che avevamo individuato praticamente come un po' abbandonata diciamo adiacente al campetto da basket Diego Malfatti, lato nord del palazzetto, ma la sostanza. Vegetazione fuori controllo, rifiuti ovunque e niente. Come al solito ci diamo da fare come associazione Darsi con i ragazzi del campetto e con la SEA per rimetterli un po' a posto. E per dare una nota di colore all'area sono stati chiamati Tev Writers, Marco Fine, Fanchi Formaggino e Dammariti che sono intervenuti sulla centrale termica a fianco del Tala Sport realizzando murales dedicati proprio al basket.